Ben tornati su Bravery di Forto, e il resto l'ho chiamato mezzo giapponese e mezzo inglese. Dunque, dobbiamo andare dal saggio di Juliana, tentando a cosa diamine quello là sopra, un albero? Sembra di sì. Dobbiamo dunque andare dal saggio di Juliana per vedere se riusciamo a ottenere quel costume sconcio, quel vestito sconcio. Entriamo e vediamo che cosa c'ha da dirci il saggio, insomma, se sta dormendo magari notte adesso. Sì, sì. per me questa volta. Perchè per cui abbiamo bisogno di vostra scuola, Sage. Non, mi permette di chiamare il Mastro. Mastro, il glamour non parallelo dei vostri creazioni, è la più sicurezza per la victoria di Agnes. Perchè per la victoria di Agnes. Perchè, di tutte le ragioni per portareci qui. Molto bene. Qualcun pezzo di mia collezione di 1,000 pezzi strong è il vostro per prendere. Oh, Mastro, le parole non possono riuscire i nostri gravi. Oh, e tu hai una vanità con cosmeti. Che conveniente. Posso? Ajuda a te stesso. Usa tutto quello che vuoi. Mi sento che tu due stai iniziando a spirare da mano. Ricordate perché stiamo facendo questo. Lasciateci a loro questo. Sono più conoscibili in queste cose che io. Mastro, ma ancora. Cosa pensi? È un'esperimentale popolare tra i miei eri. Non ho mai vinto qualcosa di abbastanza così... extravagante. Vito, è tutto vero, troppo showe. La outfit si tratta. La idea è di rilassare la sua bellezza naturale, non lo scendere. Tu sei un critico strano, mio amore. Master, credo che questa outfit non ha convicto. È... lukewarm. Hai qualcosa... più difficile? Tu sei un uomo, Ringabell. Potremmo troppo uomo. Ma, sì, potremmo il tempo ha venuto per la scena per il bravo bikini. Ma, sì, potremmo. È così extrema che ogni ragazza che mi provava iniziato e irrevocato, senza excepzione. Am... 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 I... DREAMING? Oh... Questo potrebbe essere un po'... Ambitioso? Illegale? Averti la visione, Tiz! Tu non sei pronto! È troppo tentazione! Ma, se tu fosse usare, la tua victoria sarebbe assurata! È così come la sua potenza terribile! Allora, usarei, dovrei... Sono preparata per fare nessun sacrificio per trovare Olivia! Cosa coraggio! Cosa nobile spirito! Ora, prendi la mia grande masterpiece! Uñ been to a visiter! I side on and know who it is, rather than... Dio... O... Si scambia di quinto questo Sriv Davies e giudo? È vestigio. Allo che dico è che vestigio diventa vestigio. Sì, ma è... la fattura. Non c'è nessuno. Sei sicuro? Hai parlato della fortuna della sua determinazione, Vestal. Ora, attenzione! Ho fatto, ma è... questo non è... se ho vore questo... Ho... 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 ho vissuto la morte di freddo. Voi parlare di sacrificio ringa l'hollare così presto, Agnes? E' anche che il mio giornale dice che Agnes aveva vestigliate. È stato fantastico! Agnes, è scopo! Lo vedo il libro prima. E non ha detto nulla tipo. Un'altra domanda? Non chiedere i vestiti, childe. Lasci i vestiti a te. Ma... ma... Ok, tutti, è sufficiente. La piccola è vicino al punto di partita. Ma che una vittoria. Non vuoi vincere? Non! Ho detto così da l'inizio. Non vuoi vincere il titolo di più bello per il vostro? Vestil è il solo titolo che ho bisogno. Se non vuoi vestire, non lo vestire. Non è come se c'è una regola che dice che entranti devono vestire seggi in primo. Non c'è? Non... Non... Non c'è... se non c'è un po' di scopo. E perché provi a provare a te a fare una persona che non sei? Dio che dimostri a te, come sei. Penso che Olivia è molto più probabilmente riconoscire a te così. E se... non lo so, perché non ti porti la vestale? Da l'altra! O se non si prende un sacco, dicendo, «I'm the Vestal, assassinate me!» Ma chi qui qui conosce la vestale? Us four, le Sage, Olivia... E' tutto! E penso che questa vestigia si sembra molto bellissima, Agnes. E... Dio... Me... come sono. Come la vestale del vento. Grazie, Tiz. Tu sei proprio giusto. Perchare la vestale per il festival. Penso che è la right choice. Beh, guarda te, Tiz. Tu, piccola, ragazza. Oh, per essere più giovane e stagliata. La vestale del vestale non è meno una maestra della mia, che nessun altro. Potrebbe servirti abbastanza bene. Non è sufficiente. Una piccola cosa. Avete sentito cosa ha detto Edia? Tiz è un piccolo seduttore. Charmer. Adesso, ci sono due stati, due condizioni di stati in questo gioco, che riferiscono all'amore. Malia ed empatia, credo. E sarebbe una specie di trollata dire che è un charmer, se Malia fosse charm. In inglese. Perchè lui adesso? Perchè Tiz adesso ha un arco, l'arco angelico che infligge Malia. Mio Dio, il caso. Ok, torniamo a Florem. C'è ancora il saggio? Sì. Non mi preoccupate, l'abito della vestale è uno dei miei capolavori, come tutte le mie altre creazioni del resto. Ah, un'altra cosa. Nel caso... Ah, buono. Non lo sapevo neanche. Ehm... Cosa fa? Annello della pace. Annulla il... Wow! Mi serve più in là del gioco. Ehm... Amoreto del gelo. Supprime l'acqua, questo qua mi serve tanto. E i guanti di artigiano. Tanto per dire, peccato di Ziusundra, Herzvgale, insomma quello là delle evocazioni e altre evocazioni, le farò tutte quante in un... non in un video separato, ma quando otterrò una certa abilità. Ossia nel... Ve lo spiegherò più in là. Dunque... Dicevo torniamo a Florem. Ma sono un pirla, perché prima dobbiamo almeno dormire, no? Cioè non voglio andarci semi non curato. Ehm... Dormire si fa qua. E un'ultima cosa, che riguardiamo questa... Questa scelta di vestiti. Il Bravo Bikini, o il Bikini Libido, che voi ci crediate o no, è un costume sbloccabile. Non dirò per quale personaggio, ma è un costume sbloccabile. Quindi nel caso voi voleste provare a... Ehm... Come si dice? Nel caso voi voleste ottenere e vedere il Libido Bikini, o il Bravo Bikini, potete farlo. Si sbloccherà molto più nel gioco però. Quindi attenzione. Non si sblocca e viene orrende. Tu... Madonna! Eh? Con un vabbè, sì. Oh mio! Ora, quale sia una piccola ragione come tu, che si tratta di tutta stessa a questa sera? Mi sento la tua pensazione di essere probabilmente venuta del Festival di Flore di Flore. Io sono! Non ti sei bella? Ora, se vuoi volerci per essere bella come me, ti necessitai la tua pensazione di flore! Ha! Idiotico plebe! No, non è molto... Ah... Ah... A slip of the hand... I'd meant' only to marr that lovely face. They really are such fragile things. Come pluggere una flore, e flore è così male per essere pluggi, l'essere di tutto è una buona forza, non è vero, Victor? Just so, Victoria, just so. Hmm, let's hope queste vestibili per i cristalli sono più divertenti. Si potrebbe dire che stanno cittando, ed è la verità alla fine, perché stanno uccidendo o facendo svenire le concorrenti, sfigurando il volto, per non farle partecipare al festival. Ed è una cosa molto brutta, ma è così, quindi non ci posso fare assolutamente nulla. E io non posso vedere i vostri commenti sulle domande che vi ho fatto sullo scorso episodio di Tizz, perché devo ancora caricarlo. Quindi proseguirei. Ma prima devo vedere a quanto sto nel video. Ok, manca poco e stacco il video allora. Dunque, mancano circa 5 minuti, adesso non taglio le battaglie, perché non mi va assolutamente di tagliare le battaglie. Tanto basta fare così. Ah no, questo era il... scusatemi. Sbaglierò, scusatemi. Questo era il... What's up? Era il... il setup che avevo utilizzato contro la tartaruga, che a quanto pare ha funzionato. Quindi, boom per me. Peccato di Ziusundra lo affronterò, già l'ho detto, in una parte extra. Non so se ho sentito, perché non so se ho tagliato quel pezzo. Anzi, penso di non averlo tagliato, quindi non ripeto, va bene. Però memorizzate che è qua. Perché altrimenti poi ve lo dimenticate e non lo troverete più. Fidatevi che io l'ho dimenticato nel mio file originale. Infatti, peccato di Ziusundra, l'ho sbloccato l'altro ieri. Perché non riuscivo a trovarlo. E ero pirla perché... Fugo un attimo adesso, perché non mi va di affrontare i nemici. Fuggi Ringabel? Ok, cioè, è fuggito Agnes, meglio. Dicevo, perché non lo riuscivo più a trovare. Poi ho letto gli appunti di mia filia e... Oh, ehi, l'ho trovato. E c'è una scenetta, quanto pare, quando si esce. Cosa buona, perché lo voglio fare. E se non erro c'è una sub-quest appena usciamo. Quindi... Anzi, no, non è adesso. Quando è la sub-quest? C'è una sub-quest che arriverà a breve. Per adesso non mi ricordo quale e dove. Grazie, tiz. Che bell'arco che hai, un arco rosa. Sei un seduttore. Ciormero! Ok, usciamo. All entrance to the central plaza. The 47th annual sacred flower festival is set to begin. We're in time. And you've really decided not to go with this sexy swimsuit? Wait, you still have that? I'm quite certain, thank you. I'll wear the vessel garb, as tiz suggested. This is your last chance to rethink it. Agnes, I still think the world deserves to see the Bravo. Unacceptable. Has history ever seen so sad a day as this? No, I say, surely not. Oh. No one who matters is sad, Ringbell. Are you nervous? I know it's scary standing up in front of a crowd this size. But don't be scared. We'll be close by, keeping watch. Thank you. Hearing that does lift the weight from my shoulders. Good. Now relax and go get them. A quanto pare c'è una teletrasportata qui a Florem ed è una cosa molto buona. Ma io sono un troller e mi sono nascosto dietro a un fiore. E quindi nella prossima parte di Bravely, no, facciamo di nuova. Continuiamo, dai. Voglio vedere che faccia fanno quelli là avendo il vestito della vestale. Poi staccherò la parte. Se questa parte verrà un po' più lunga mi dispiace ma è venuta più lunga perché non voglio... Voglio fare il video d'argomenti, non voglio fare il video... Oh, c'è una coniglia lì. Oh, my heart's pounding. And I'm in the audience. It's like the speech at Anshime all over again. I nearly forgot to breathe. She'll do fine. And we're here just in case. Stage fright isn't the only thing worrying me. Last I heard, there were a total of six girls competing today. So, why is Agnes' entry, number nine? Where are the other three, you mean? Maybe they panicked at the last minute? Hmm, I suppose it's possible. The Lovely Mary. Next up, number nine. Agnes. Oh, here she comes. Agnes? Agnes! Agnes! You're on, go! Huh? Entrant number nine? It's still your turn. Come on down! Oh, right, sorry. What was she thinking with that bland get-up? She's clearly delusional. I almost feel bad. Almost. I didn't come all the way here for this. Boo! 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 To my one true friend. In hopes that this may reach you, though great distance has come between us, I consider you my friend, now as in childhood. You are a source of joy, a target of aspiration. You were ever one step ahead, but you would always stop to reach out a gentle hand to guide me. Just to see your smile, and hear you speak, filled my days with warmth. Yet now, I do not even know where you are. The smile you wore as a girl is still so fresh in my mind. And yet, I feel my breast will be torn asunder from worry. I want to see you again, to know that you are well. To be truthful, I am terrified without you. Even now, as a grown woman, I force myself onward, but any confidence I show is hollow deception. Every pause, every quiet moment, I feel ready to fall to my knees and wail as I did back then. Please. I feel I cannot withstand this crushing weight. I cannot manage it alone. I cannot imagine completing my task without you there. Without your aid. For so long, I'd swallowed back these doubts. Tried to be strong. But I fear, old habits are not soon broken. I will wait for you. So please, if you are watching, tell me. Let me know you are there. Give me some small sign, and this time, I will do as you once did. I will reach out my hand to you. I... Thank you, very much. Oh, this is ridiculous. I call foul play. How do you not have any vote? Can't be helped. Hers was an appeal wholly out of keeping with the contest's theme. Perhaps I ought to have won the bikini after all. You were just fine. You said what you came to say. The idea was never to win the contest. If Olivia heard that, I'm certain your words will move her. I hope so. I wonder what... A letter? Wait, is it from... Olivia! She wrote me a letter! See? You got through to her just fine. So, what does it say? I heard about your appearance at the festival, though I was not able to attend. It puts my heart to ease knowing that you have also weathered this terrible crisis. I wish to meet with you as well, Agnes, my one true friend. But I fear I am not free to move about. Behind the ruins to the west lies the hidden village of the Crystal Orthodoxy. You will find me there. Do not allow this letter to be seen by any eyes but yours. Not even the matriarch can know. Awfully cautious, isn't she? If I trust anyone in Florum, it's the matriarch. They must be after her too then, as we feared. Let us go. Straight away. West to the ruins and the hidden village beyond. I trust you heard that, Victor. Most clearly, Victoria. Then we've little need for the wind vestal to continue living, hmm? Indeed. Though, if I may, it seems they make for the vestal of Water's side. Yes, and? They may serve us better as live baits. We let them go, give chase, and net two vestals at once. Fine, fine. So in the end, it was I who took the festival crown. Unsurprising, but amusing enough. Wouldn't you say, Victor? Just so, Victoria. Just so. Dunque, la parte è durata tipo tantissimo. E in Orende ha finito il villaggio. Bene, cioè ha finito questo pezzo, insomma. Prossimo, lo faccio da solo, non vi preoccupate. Dunque. Sub quest, come potete vedere. La farò in una prossima parte. Però voglio un attimo uscire da Florian, possibilmente. Per favore. Perché io volevo controllare solo una cosa. Dunque, nella prossima parte, su quest. Per favore. Non dovessi... No, dovessi. E' una cosa buona che l'ho fatto. Cosa? Cosa dice? Rose, per incontrare il nore di hideaway. Vori loro per evitare a una volta. Cosa? Rose. La luce di Rose, legione. Let'si riusci al nord, a la vicina vicina. infatti stavo per dire avrei giurato che ci fossero due subquest e quindi ci sono due subquest dunque nelle prossime parti andremo avanti verso due subquest una florem e una villaggio nascosto penso sia più difficile quella di florem quindi farò prima quella del villaggio nascosto in ordine mi sembra che è proprio questo prima il villaggio e poi questo dunque nella prossima parte farò subquest quindi alla prossima ciao